Ciao, benvenuti su Delta Gaming, qui è Delta89. L'evento per ottenere emic continua e oggi siamo arrivati al momento di evocare un po' di campioni aprendo un po' di schegge sacre per ottenere i punti necessari per completare l'evento Summon Rush. Al momento ho già completato il torneo del Drago e l'evento per allenare i campioni. Sto progredendo per l'evento per il torneo per l'arena, quello non è un problema, quest'altro appunto è stato completato. Invece per quanto riguarda gli eventi, il Dungeon Diver devo ancora completarlo, mi mancano un migliaio di punti e li otterrò oggi pomeriggio, quindi non dovrebbe esserci problemi. E lì anche se devo dire che questo Dungeon Diver l'ho trovato un pochino più difficile del solito. Non mi è chiaro se perché abbiano incrementato la soglia, credo di sì, credo che l'abbiano incrementata, o se sono meno i giorni disponibili. Non ho purtroppo fatto immagini gli eventi precedenti, quindi non ho modo di controllare, ma sicuramente online qualcuno avrà postato immagini relative, avrà fatto il confronto. Comunque ho l'impressione che sia diventato più difficile del solito. Per quanto riguarda gli Artifact Enhancement, pian piano sto livellando un po' di artefatti, quindi probabilmente tra oggi e domani lo completerò. Mentre il Summon Rush ho aperto finora 1000 schegge verdi, e mi mancano quindi 2000 punti per arrivare a ottenere i 25 frammenti. Questi 2000 punti li otterrò aprendo 4 schegge sacre, quindi in realtà oggi non faremo molto, oltre che aprire 4 schegge sacre. Ovviamente la cosa migliore sarebbe se tra quelle 4 schegge sacre dovessi trovare Isbael, che è il campione epico che stiamo cercando di fondere, perché se riuscissi a trovare lei ovviamente sono ben 100 frammenti meno che devo ottenere tramite gli altri eventi, e davvero semplificherebbe la mia vita, e in generale quella di chiunque dovesse riuscire a trovarla durante questo Summon Rush. Altrimenti comunque spero di magari trovare un leggendario, chi lo sa, ultimamente non sono stato sicuramente fortunato con i campioni che ho trovato, quindi spero di trovare qualcosa che possa essermi utile. Apriamo quindi queste 4 schegge e vediamo chi troviamo. Come al solito, se questi video vi piacciono, lasciate un like sul video, iscrivetevi al canale e raggiungeteci su Discord. E poi ovviamente commentate qui sotto e fateci sapere voi se avete aperto Schegge e chi avete trovato. Cominciamo quindi con la prima. Epico. Lady Quilin. Interessa. Prossimo, vediamo un po'. Altro epico. Ne ho già trovato una copia di questo campione, ne ho già parlato nell'ultimo video in cui ho aperto delle schegge sacre. Un'altra, vediamo un po'. Altro epico. Vrask. Sembra Warlord, ma non è Warlord. Vrask in passato era considerato molto meglio, diciamo che il suo kit si basa tutto sul curare mentre attacca. Adesso in realtà ci sono campioni migliori, però sicuramente io lo utilizzo ancora nella fazione, perché non ho altri campioni che curano nella fazione, quindi lo continuo a sfruttare lì. Ma sicuramente se lo trovassi oggi non lo andrei a buildare. Vediamo, ultimo campione, incrociamo le dita e speriamo bene. Ah, niente, altro epico. Gorgorap. Che credo di avere? O non ho? No, credo di... Sì. Ok. Per tanto tempo non l'ho avuto, ma a un certo punto credo di averlo trovato. Poi ovviamente non l'ho mai livellato, non l'ho mai utilizzato, perché in realtà non mi serve ormai a molto nel mio account. In passato era uno dei campioni più utilizzati in arena. In realtà molto probabilmente se lo trovate a inizio gioco, quando siete abbastanza nelle fasi iniziali, sicuramente lo livellerete a livello 60 e sicuramente lo utilizzerete nel vostro team dell'arena. Ma probabilmente nel momento in cui andrete avanti ai livelli argento e sicuramente ai livelli oro, lo vedo molto meno utile. E con questo dovrei aver fatto i punti necessari. Eccoci qua, precisi. E summon rush completato. E con questo è tutto per oggi. Fateci sapere voi com'è andata. Come ho detto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Raggiungeteci su Discord e noi ci vediamo al prossimo video.